Due innesti per dare qualità e profondità all'organico in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie C, con la prima giornata fissata per domenica alle 18 con il Sestri Levante al Barbetti. Il Gubbio ufficializza Simone Franchini e Cristian Tomassini, ambe due classe 1998 prelevati a titolo definitivo dal Pescara. Franchini, incursore di centrocampo che può adattarsi anche come laterale, ha già in carriera esperienze importanti a Cesena, Padova, Ravenna, Monterosi e nel Delfino e si presenta così ai tifosi rosso-blu. Io ho avuto un po' di richieste quest'estate, però non ho mai preso nessuna inconsiderazione perché stavo bene a Pescara. Poi quando è arrivata la richiesta del Gubbio ho notato subito da parte del direttore, del mister della società una voglia importante di fare calcio e questo mi ha colpito e quindi ora sono qua. Io nasco a Mezzala, ho sempre fatto questo ruolo, poi qualche volta sono stato anche adattato magari a fare il quarto e il quinto. Negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, diciamo che le mie caratteristiche sono più quelle di recupero palla e inserimento. Sicuramente è una piazza che negli ultimi anni sta facendo molto bene e ogni anno riesce sempre a raggiungere gli obiettivi. Padova e Pescara sì sono piazze importanti in cui sono stato molto bene, ma in Serie C non conta il numero di tifosi o il blasone della piazza. Può vincere come si è visto negli ultimi anni qualsiasi squadra e penso che questa squadra abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Fisicamente mi sento molto bene, sono contento di essere a disposizione dei compagni del mister e non vedo l'ora di incominciare domenica. Tomassini è invece un attaccante eclettico e associativo che dopo la trafila giovanile tra Sampdoria e Cesena ha militato per diverse annate nel Ponte d'Era per poi passare a Imolese, Firenzuola, Paganese, Taranto e Pescara prima di concludere la scorsa annata al Monopoli proprio sotto la guida di mister Taurino che ritrova anche quest'anno il rosso-blu. Il Gubbio era in trattativa col Pescara per acquisirmi il titolo definitivo e sono riuscito a trovare l'accordo. Poi io ce l'avevo già da tempo, quindi sono molto felice di essere qua. Negli ultimi mesi sono stato col mister, infatti comunque quest'estate ci eravamo sentiti più volte, anche prima di approdare qua. Sicuramente parto avvantaggiato perché conosco già le sue idee, quello che vuole e puntiamo a fare un bel campionato. È solo un attaccante che gli piace attaccare la profondità, che gli piace giocare negli spazi, gli piace dialogare con i compagni, venire incontro quando serve. Quest'anno nel Girone B ci sono tante piazze blasonate che hanno costruito e stanno costruendo buoni organici con giocatori d'esperienza e giovani bravi. Nonostante questo non vedo una squadra favorita che può ammazzare il campionato, però finalmente domenica si inizierà a giocare e vedremo.